quale alimentatore scegliere per pc in termini pratici parliamo veramente in termini pratici perché quante rubriche possiate seguire su youtube non si riesce mai effettivamente per un amatoriale come me classe 79 a capire effettivamente qual è l'alimentatore che debba essere messo all'interno del pc gli studiano fanno i test li provano in tante versioni però ti lascerò sempre quel dubbio che non ti fanno capire effettivamente a te quale serve e rischi di comprare poi un alimentatore che fondamentalmente non ti serve o perché è troppo piccolo o perché troppo grande partiamo dal presupposto che avere un computer assemblato di grandissime prestazioni e non avere un alimentatore adegrato vuol dire praticamente far spegnere la macchina perché quando un computer all'improvviso si spegne e si riavvia al 60 70 per cento dipende dall'alimentazione che non riesce a erogare la giusta corrente ora esistono alimentatori che alimentano dei 450 watt ai 1000 watt che cosa serve a noi innanzitutto ci sono gli alimentatori della della nuova generazione quella con il marchio con il bollino 80 plus cox è questo bollino 80 plus bronze gold eccetera questo bollino non certifica la qualità del prodotto ma bensì il risparmio energetico la grassi di risparmio energetico vuol dire che se il l'alimentatore alimenta 500 watt ma il tuo computer in quel momento ne sta utilizzando 300 lui ti garantisce che ne eroga 320 oppure il tuo alimentatore da 700 watt sta alimentando un computer che in quel momento sta richiedendo 500 watt lui ne sta erogando 520 tenete presente che non è possibile richiedere 500 watt ed erogare 500 watt proprio per la fisica per la scienza per la tecnologia non si può erogare la stessa quantità richiesta c'è sempre un po di più che viene erogata ora facciamo questo esempio innanzitutto avere un bollino non vuol dire essere sinonimo di qualità quindi io vi invito ad affidarvi sempre alle marche più importanti degli alimentatori basta andare su qualsiasi video di dei youtuber o anche su google e vi usciranno tantissime marche al massimo due o tre forti importanti che fanno alimentatori importanti perché ci sono anche alimentatori da 20 30 euro il problema è la qualità degli alimentatori importanti e il materiale con cui viene fatto l'alimentatore che un alimentatore lo vuoi pagare pure 20 30 euro ecco con un erogazione di 500 watt poi vedi che caso mai quello della marca importante sta 70 80 euro allora ti chiedi perché è una truffa quello da 70 80 90 euro no non è una truffa è il materiale con il quale viene costruito all'interno l'alimentatore perché il materiale è capace di poter sopportare quel voltaggio e quella tensione quindi attenzione attenzione ripeto il bollino non è sinonimo di qualità ma il bollino è sinonimo solamente di risparmio energetico detto ciò per chiarirci in maniera chiara evitare di buttare soldi innanzitutto ci sono gli alimentatori modulari e semi modulari i li riconoscete perché non hanno quel filo gigante che esce dai nostri come vecchi alimentatori ma hanno le varie porticine con i fili a parte che tu puoi tranquillamente inserire il filo che ti serve e quindi andarti alimentare quello che effettivamente hai un hard disk o due hard disk un lettore cd rom una scheda video se la metti a parte e queste cose qua mentre quelli semi modulari hanno una parte di questa e una parte di cavistica quelli normali invece hanno questi cavi che poi vanno dispersi all'interno del computer che non vengono attaccati ma vengono bene o male sempre stretti con le fascette di plastica detto ciò quindi rivolgersi a uno modulare ora 450 watt partono i computer base quelli da casa cioè quelli che hanno l'hard disk che hanno i cd rom e che hanno la scheda video integrata quelli vanno più che bene un 500 watt che al momento utilizzo anche io al momento perché forse potrei optare per un 600 watt e poi vi spiego perché il 500 watt va benissimo per un computer che abbia un cd rom un hard disk e anche una scheda video dedicata di quelle recenti quindi parliamo di quelle già da prestazioni importanti un 500 watt va più che bene quello da 600 650 watt è il massimo che si deve acquistare per casa che gira un hard disk girano delle vento eventualmente dedicate gira un cd rom e girano tutte le schede più performanti che stanno attualmente nel 2022 sul mercato 600 650 watt casa punto anche per il gaming quando poi ricominciamo a parlare delle 750 watt parliamo di alimentatori industriali alimentatori capaci di tenere acceso per 24 ore quindi per l'industria per gli uffici due hard disk schede grafiche server e tutto il resto quindi è inutile spendere e buttare soldi per alimentatori superiore ai 600 650 watt nel momento in cui una delle schede più performanti ventole aggiuntive e le trovate scusate da marche buone anche su amazon modulari e quindi praticamente concavistica da inserire voi entro gli 89 euro sopra gli 89 90 euro è una spesa completamente inutile per un alimentatore da casa che tu sia un normale diciamo operatore che tu sia un videogiocatore anzi per un normale operatore che non abbia neanche una scheda grafica dedicata il 450 volt va benissimo quindi questi sono il range sul quale investire per gli alimentatori da casa da gaming e da ufficio grazie e alla prossima